Oh, let's try! Non è ancora estate, a dire la verità, per il calendario, però per le temperature magari sì. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, il primo appuntamento è speciale quindi non è detto magari che la prossima settimana ce ne sia un altro, sicuramente ci stiamo avvicinando a sport d'estate che ormai ci sta accompagnando da diverse stagioni. Intanto facciamo un appuntamento, una puntata speciale con il basket, con il grande basket per me perché quando c'è una palla che rimbalza, la palla rimbalzina come dicono i colleghi del calcio fa sempre piacere almeno a me personalmente. Poi perché ci sono squadre ospiti oggi di grandissimo livello che hanno disputato campionati un po' alterni ma insomma alla fine di buon livello. Stiamo parlando per quanto riguarda la Serie B maschile di Montecatini e dell'Etrusca San Minato e poi a due femminile della Nico Basket. Li abbiamo un po' divisi e contingentati perché anche noi purtroppo con le mascherine nascoste dobbiamo stare alle regole e lo facciamo ovviamente volentieri. Raffaello De Maio innanzitutto perché ci ha accompagnato tutta la stagione con il campionato di Serie B, con i suoi interventi, le telecronache del Montecatini perché lui anche ha detto stampa del Montecatini ma anche i commenti su tutto il campionato di Serie B. E poi l'allenatore di Montecatini della parte finale anche se poi sei sempre stato nello staff perché eri assistente di Alberto Tonfoni, Giacomo Cardelli. Buonasera a tutti. Allora, Raffa, io ti lascio quasi tutta questa prima parte, però comincio io. Intanto il finale increscendo, vero, Montecatini è sempre stato nei bassi fondi della classifica, quasi sempre ultimo. Nel finale era anche uscito dalle ultime due posizioni, mi sembra terzo ultimo, come aveva finito prima della sospensione. Purtroppo c'è stata questa sospensione e, beh, io dico a firma Giacomo Cardelli, è stata cambiata un pochino anche la squadra. Sono arrivati gli annilli, sono arrivati altri due o tre giocatori e quindi c'è stato questo. Però Manico poi alla fine si è visto. Sì, devo dirti, me l'aspettavo, me l'aspettavo un filiale in crescita perché man mano che passava il tempo vedevo che i ragazzi cambiavano lo spirito che avevano durante la settimana. Parlo ovviamente per me, non voglio parlare per chi era prima di me perché magari direi delle inesattezze. Durante la settimana, dal primo giorno, i ragazzi cambiavano l'atteggiamento, erano sempre più positivi. Allo stesso tempo avevo a che fare con dei ragazzi, degli uomini, che potevano spiegarmi a me qualcosa perché comunque sia gli annilli ha passato in Serie A, ha vinto campionati con la Fortitudo, Meni ha fatto Serie A, promozione con Pistoia, Serie A a Venezia. Quindi magari potevano anche spiegarmi qualcosa a me. Invece dal primo giorno, dalla prima mattina, mi ricorderò sempre, il martedì mattina, si sono messi a completa disposizione. E lì avevo già pensato che potesse cambiare qualcosa. Poi man mano che quel tempo passava siamo arrivati alla prima partita con Palermo dove abbiamo fatto probabilmente una delle migliori partite dal punto di vista difensivo. Ma non eravamo riusciti a strappare la vittoria. E man mano che passava il tempo però la nostra pallacanestro cresceva. Di livello, di intensità. E poi siamo arrivati e le ultime due partite riuscivo a vincere battendo la prima in classifica San Mignato e andando a fare una super partita, una super prestazione a Palermo, a Costa d'Orlando, in una situazione proprio paradossale. Gli unici forse a giocare in tutto il basket nazionale. Gli unici, ma Pistoia il sabato a Trento, a Trieste e poi forse voi la domenica e poche altre. Sì, noi la domenica con l'altra squadra che a poche ore dall'inizio della partita chiedeva di non giocare, quindi non sapevamo se giocare, se non giocare. Sì, si è visto di tutto. Però fatto sta che avete chiuso purtroppo questo discorso di questo sfortunato campionato con delle belle prestazioni. Allora, io ti scopro un altarino. Raffa è sempre stato in difficoltà perché a un certo punto si trovava e come nostro opinionista in una situazione come nostro opinionista e come ha detto Stapa, per cui io lo tempestavo di telefonate. Ma Alberto, com'è la situazione di Alberto? Alberto Tonfoni che è l'allenatore che è stato sostituito, ma non per Alberto ci mancherebbe, ma perché purtroppo quando le squadre sono in situazioni difficili, spesso a pagare è l'allenatore. E lui mi diceva, no per ora niente, ma c'è qualche idea. Guarda, l'unico, se eventualmente in grado di darci una mano, è Giacomo. Me l'ha ripetuto all'infinito e poi è arrivato quel giorno. E poi è arrivato quel giorno. Sì, anche perché siamo stati sempre tutti convinti che se Alberto fosse stato sollevato da incarico, dimesso lui, l'unico che poteva prendere il posto era Giacomo. Non c'è mai stato alcun altro contatto e la scelta è caduta subito su di lui. Lui, però, posso dire, svegliamo un altanino, che è stato indeciso quelle 24 ore. La leggenda dice che abbia preso la macchina e si è fuggito, si è sparito dai radar per qualche ora, abbia chiamato chiunque, li si è venuto in mente per dire cosa devo fare, a parte che però in corso lui sapeva già cosa fare. Infatti i risultati si sono visti. Ma immagino che non sia facile, anzi, sostituire un allenatore insomma, con il quale penso tutti si è trovato bene. Poi penso a questi livelli sia anche un rapporto di amicizia e prenderne le rede. Oltretutto una squadra che si trovava ultima in classifica e fino a quel momento aveva vinto una partita, forse. Due partite. Due. Quattro punti. No, devo dirti la sincera verità. Non è assolutamente facile, oltretutto perché era la prima esperienza. Venivo comunque sia da anni in cui facevo l'assistente, però si sa benissimo che tra fare assistente e prendere le decisioni c'è tanta differenza. Oltretutto farlo ad Alberto, che prima di tutto era un amico, che prima che il mio capo allenatore era un amico con cui passavo tantissimo tempo, è stato difficile. Però è anche vero che è stato già lui il primo a dirmelo, fa parte del nostro ruolo, fa parte del ruolo dell'allenatore, partire e si sa tutti che è difficile cambiare 12 giocatori, è più facile però cambiare un allenatore. Quindi è stato difficile, però alla fine mi sentivo pronto. Cosa non è andato con Alberto, con il Tonfonio? Ma essenzialmente diciamo che il problema è la chimica che non c'è mai stata con la squadra pre-mercato, perché dobbiamo dividere le due squadre. La squadra senza Iannilli, Tiberti e Tomei era una squadra, la squadra con loro tre era tutta un'altra squadra che probabilmente, manca la prova, si sarebbe salvata forse anche con Alberto. Perfetto. Però in questi casi cosa succede? Quando si arriva in un punto di pareggio bisogna scombinare le carte per vedere se la squadra riesce. Quindi l'arrivo di Jack, io lo chiamo Jack perché per noi è Jack, ha cambiato un po' anche la testa dei giocatori, li ha liberati anche da un... li ha caricati di responsabilità, ma li ha anche un po' liberati, è stato un effetto un po' duplice. Sì, dalla prima partita si è vista una squadra che giocava una paragonia completamente diversa, ma anche, soprattutto a livello mentale. C'è da dire anche che con Alberto siamo stati anche sfortunati. Abbiamo perso forse quattro partite, proprio di un'inizia, sbagliando l'ultimo tiro più insieme per tre volte. Quindi con otto punti in più probabilmente la cosa sarebbe stata anche diversa. E poi tra l'altro, la partita, io ne ho viste pochissime e dal vivo, solo il derby con Firenze e c'erano prima le immagini, è quella forse decisiva e tra l'altro molto ben giocata. A me è piaciuto Montecatini in quella partita che meritava assolutamente di vincere. Firenze ha avuto il merito di non mollare fino all'ultimo, ma a pochi minuti dalla fine Montecatini era sopra in doppia cifra, se non ricordo male, o comunque con un bel vantaggio. Probabilmente quella è stata la partita decisiva per l'esondolo di Alberto, ingiustamente per come era finita la partita. Però poi arriva a un certo punto della stagione in cui certe partite le devi vincere. Quindi vuol dire che se non riesci a vincere anche una partita di quel tipo lì, manca il salto di qualità, manca fare quello step. E abbiamo, la società ha ritenuto, che quello step fosse sollevare Alberto, al quale ovviamente va il nostro ringraziamento e i saluti, perché resterà sempre uno dei nostri. Non va dimenticato che l'anno scorso, con una squadra sempre abbastanza debole, si è salvato a pre-out. Il bello della palacanestro, ho visto ora le immagini dei tifosi di Firenze, mi sembra finì dopo due tempi supplementari. Due tempi supplementari. I tifosi, se ci feci caso, avevano già mai nato le bandiere e stavano andando via a un minuto e mezzo dalla fine. Poi ci furono tre canestri da tre punti di seguito e si riapre tutto. Cosa è cambiato, Giacomo? Il lavoro che ho fatto forse è stato più mentale, perché come diceva giustamente Raffa, la squadra non era sicuramente una squadra da ultimo posto in classifica. Secondo me era entrato più che altro la paura di vincere, perché si sa, quando arrivano tante sconfitte, tanti risultati negativi, poi quando, e la partita di Firenze probabilmente è stata l'emblema, quando poi arrivi in fondo alla partita e sei punto a punto, ti entra quel fantasma della partita precedente, ma abbiamo perso, abbiamo perso, abbiamo perso, e quello è stato l'emblema principale. Il focus dove andava messo era quello sull'atteggiamento mentale, togliersi la paura di perdere. Ero preoccupato dopo la prima settimana, perché nonostante avessimo giocato 40 minuti splendidi con Palermo, avevamo perso. E lì un po' di preoccupazione era venuta fuori. Poi piano piano, già dalla partita a Domegna, dove siamo stati 34 minuti avanti, su un campo dove nessuno si aspettava di stare avanti per 34 minuti, lì già lì ho detto, forse stiamo cambiando. E poi è stato San Mignat, è stato l'emblema di questo cambiamento, perché poi fondamentalmente non ho avuto tempo di cambiare chissà che cosa dal punto di vista tecnico, tattico. Secondo me il primo lavoro che andava fatto era sull'atteggiamento mentale. Un buon inserimento da parte della società a proposito dello staff tecnico è stato quello di mettere a fianco Massimo Angelucci, che con l'esperienza che ha Massimo sicuramente avrà dato uno. È stata la mossa vincente. Al di là dei meriti di Giacomo, Massimo Angelucci rappresentava un po' l'emblema dell'esperienza del coach anziano, tra virgolette, anche se non è per guidare Giacomo in questa avventura, che ripeto è la prima volta da capo allenatore. Lui poi è una persona ben voluta da tutti, sempre positivo, che era la cosa che ci voleva. Tra l'altro mi ricordo sempre che il giorno prima della partita con San Mignat, che secondo me è stata la partita a capolavoro della gestione di Giacomo, che ci ha dato la certezza che ci saremmo salvati se il campionato fosse continuato, Massimo mi dice domani vinciamo facile. Dice da cosa lo dici? Lo vedo nelle facce dei giocatori. Quindi quando uno così ti dice una cosa del genere, vuol dire che buone possibilità di vincere ci sono. E soprattutto un grande pregio di Massimo è che non aveva mai una parola fuori posto, si consultava sempre con Giacomo, ma la decisione era sempre sua. Però poi magari Giacomo faceva quello che diceva, cioè sono equilibri che non conosco. Però era il vice ideale per Giacomo in questa fase, ovviamente, della sua carriera da allenatore. Come l'avevi pensato al finale? Che purtroppo non c'è stato. Sicuramente in crescendo, perché le prove che avevamo, le ultime due prove che avevamo fatto erano sicuramente al di sopra, e quello che mi aspettavo anzi, da quello che mi aspettava questa squadra qua. Parlando così con i giocatori, tutti eravamo sicuri che, forse esageriamo, ma avremmo scanzato i play-out. Anche perché avevamo di fronte a noi tre partite contro squadre che erano nel nostro stesso punteggio. Torrenova, Burgosesia. Torrenova, Burgosesia. E poi l'ultima in casa con Luc. Esatto. E quindi... Ci poteva essere un filotto. Probabilmente sì. Probabilmente sì. Riconfermato? Cioè, un po' in difficoltà ti devo mettere. No, cioè, io, se fosse meglio, farei un triennale. Però bisogna vedere, diciamo, cosa si presenta al futuro, che al momento è incerto, tranne per San Miniato e Omenia e qualche altra società. Cioè, per me, se vale la mia parola, sì. Se parlo col Presidente anche per lui, però manca la firma. Stiamo ridendo, ma ora vi tolgo il sorriso, purtroppo, perché voglio anche ricordare in questa occasione, insomma, uno che ha dato tantissimo al basket montecatinese, inizio da Raffa, ed è a proposito di Raffa, Raffa Romano, che purtroppo questo coronavirus ce l'ha portato via. È stata una perdita enorme. Enorme per l'uomo, enorme per quello che rappresentava lui, per Montecatini, per il basket. E non saperlo più in palestra quando riprenderemo sarà per noi uno shock enorme, perché Raffa era una di quelle persone che c'era sempre. C'era un problema? Sentiamo Raffa. C'è da fare una cosa? Chiedere a Raffa. Cioè, era diventata una specie di mantra. Stiamo cercando, stiamo pensando di organizzare, insieme a Paolo Albelli, Gabriele Savioli e gli altri dirigenti di Montecatini Basket Junior, una serie di iniziative, per ricordarlo degnamente, ovviamente che verranno fatte quando questa emergenza lo consentirà. La prima che vorremmo fare, sempre che sarà possibile, è verso metà giugno, una specie di ricordo pubblico, invitando varie persone che sono state vicine a Raffa in tutti i rami della sua vita. Però non mi sbilancio finché non abbiamo il permesso di poterlo fare, perché lo vorremmo fare al playground, ovvero il campo che lui ha inaugurato, quello accanto al Palavicci, di cui la leggenda dice che le chiavi le avesse solo lui. Se uno ci voleva andare a giocare, è stata una perdita umana notevole e il mio ricordo, il mio abbraccio va soprattutto alla famiglia, perché Riccardo adesso assume un'importanza capitale per il futuro della società dal punto di vista del mini basket. dovremmo stare tutti vicino, aiutarlo e accompagnarlo in questo cammino molto difficile in cui si è trovato catapultato suo malgrado. L'ultima cosa, io ho lanciato in tempi non sospetti la proposta di intitolare il palazzetto a Raffaello Romano e a Paravinci. Il comune, l'amministrazione comunale Montecatini è d'accordo con noi, sta partendo piano piano l'iter per poterlo fare. Ci sono buone possibilità che possa essere fatto, perché quello era il suo palazzetto. Noi lo riprendiamo tutti lì. Giacomo, che ricordi hai? Sto, da una parte non vedo l'ora di ripartire, dall'altra ho una sensazione terribile, ovvero quella di rientrare al palazzetto e non trovarci Raffa, perché io c'entravo alle 7 la mattina e c'era Raffa, alle 9 la sera c'era Raffa, già il pensiero che non senti più o la sua voce o passare con l'overboard per pulire tutti i campi che se ne inventava una più del diavolo, già solo quello dà fastidio. Non voglio pensare a quando succederà, perché sicuramente sarà un'emozione troppo forte. Mancherà, mancherà tutto, perché sapeva far ridere dai bambini agli adulti. E quello era sicuramente il suo pregio più grande, oltre che un pozzo di sapienza per la pallacanestro, per un uomo tuttofare, sicuramente quello che mancherà più di tutti è il suo saper ridere e saperti dare un consiglio o una brontolata, diciamo, sempre col sorriso. Raffa rimane con noi, parliamo dell'Etrusca-San Miniato, poi nella terza parte anche la 2 femminile con la Nico Basket di Ponte Bugianese. Grazie e complimenti a Jack, posso chiamare anch'io? Certo, grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.